Tutto il collegio è solo su RaiPlay. Scarica l'app. Signori, un gruppo di quattro. Videoclip terminati e adrenalina ancora in corpo. Ma i sorveglianti hanno convocato un'assemblea straordinaria in cortile. Allora, noto una certa ilarità? Siete tutti contenti, divertiti? Sì. Sì? Molto bene. La mia domanda è, tutte queste patatine, caramelle, buste varie che ho visto in giro, le abbiamo trovate nel collegio. Andrini, questa fascia dove l'ha presa? Nell'ufficio sorveglianti, c'era la porta spalancata. Nessuno vi ha detto di poter prendere caramelle e qualsiasi altra cosa che fosse stipata nell'ufficio sorveglianti. Io e il signor sorvegliante abbiamo il diritto di tenere l'ufficio aperto e voi avete il dovere di starci lontano. Quindi, questa cosa sarà presa in considerazione. Secondo me siamo tutti nei... ...nei rosini. Il furto dei patacca è stato smascherato e qualcuno è molto preoccupato delle conseguenze. La squadra dei pericolo andrà a sedersi da questa parte. Regà, però avete mangiato pure voi, ammettetelo. Hanno voluto fare i patacca. Penso che andranno nei guai almeno un pochettino. Ecco qui! Siccome la squadra del pericolo si è comportata in modo adeguato, io direi di iniziare con delle belle patatine fritte. Patatine fritte! Squadra patacca, le patate ne hanno mangiate in abbondanza. Voi avete mangiato la stessa roba nostra, quindi si ha un minimo di rispetto per lui, fa il bici, anch'io ho mangiato. No, noi avevamo solamente trovato il cimone e gli stai mangiato. Loro ci hanno lasciato due patatine messe in croce e non le abbiamo mangiate. Ma non sapevamo manco dove le avessero prese. Ma dimmi, dimmi che c'è. Io non sapevo niente, io ho mangiato col pensiero che fosse tutto apposto. Chi di patatine ferisce, di patatine perisce. Per questa volta il collegio, più che pulire i colpevoli, ha premiato gli integerrimi. O quasi. Infami, 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 infami. Avete mangiato la nostra roba. Non sa che ci ha provato uno spio. E' un po' infami, insomma. Potevano rifiutare. Potevano rifiutare. Potevano rifiutare. Potevano rifiutare. Potevano rifiutare.